ciao amici di accordo oggi siamo qui con questa strato per farvi vedere come si deve paraffinare un pick up abbiamo già provveduto a smontare lo strumento voi sapete già più o meno di che cosa si tratta la paraffinatura è quell'operazione necessaria a rimuovere parte delle fastidiose interferenze che si incontrano quando il pick up diventa microfonico cioè quando le spiere diventano particolarmente lasche e quindi tendono a far fischiare il nostro strumento abbiamo provveduto come vedete a smontare il nostro battipenna e ora andremo a rimuovere fisicamente il pick up dalle saldature che sono state fatte per poi inserirlo all'interno di questo pentolino dove abbiamo messo a sciogliere della paraffina e della cera d'api in maniera tale che poi quando queste si ingloberanno tra le spire renderanno il nostro pick up molto più solido e quindi più silenzioso procediamo con l'operazione perfetto abbiamo smontato il pick up l'abbiamo assicurato questo legnetto che ora andremo ad immergere all'interno della nostra paraffina vedete agitarsi tanto perché qua sotto c'è un piccolo agitatore cioè un magnete che girando fa muovere in continuazione la nostra paraffina che non è ad una temperatura troppo elevata perché altrimenti rischieremmo di andare a sciogliere anche le nostre plastiche quando le bollicine sono completamente salite a galla allora noi saremo sicuri che il nostro pick up sarà ben cerato dappertutto vedete che continuano a far uscire delle bolle d'aria quelle si trovavano all'interno delle spire una volta rimosso il pick up dal pentolino lo andremo ad adagiare su della carta forno in maniera vale da non imbrattare troppo le nostre superfici e poi aspetteremo che la nostra cera si sia solidificata aspettiamo